Siamo qui con il Darwin, con Valerio Buggeretti, Marco Cannella e Francesco Romano. Diteci le vostre impressioni sulla partita di oggi. Siciliamente è stata una partita... Siamo stati inferiori, noi eravamo superiori sul piano del gioco. Ti ha visto. Poi ci siamo stati nell'infortunio, ho preso il mio. Spero sia stato solo un piccolo disguido e vabbè, ci rifaremo alla prossima. Sono d'accordo con Valerio e... Per passare dobbiamo battere Donizio Cilla e ci ammetteremo l'ultima. Complimenti agli avversari e anche alla squadra. Io sono d'accordo con il capitano del Bomber. Abbiamo sofferto soprattutto in difesa per uno superiore. L'arbitraggio non credo che sia stata d'altezza. No, per forza vince con l'altezza.